Siamo con Ivan Mapelli della Free Combat Academy e Ivan sta testando per noi un nuovo modello di guanti MMA Italian Flag un guanto nuovo, studiato proprio per le MMA con un design decisamente accattivante cosa ne pensi di questi guanti? Come dici tu, è un bel design, a me piace perché comunque sono i colori della nostra bandiera quindi è un'ottima cosa è un guanto, una buona imbottitura, ha calzabilità buona e diciamo che in generale è un ottimo guanto Hanno praticamente la parte del palmo libera per le prese e soprattutto anche il pollice questo per le MMA è fondamentale Sì, infatti c'è completa apertura all'interno della mano per avere un bel grip e una buona imbottitura dove c'è la possibilità di colpire l'avversario e soprattutto per non avere dei problemi nelle mani per quanto riguarda i colpi Allora per i praticanti di MMA consigliamo il nuovo guanto della Vandal Italian Flag Sì, un ottimo guanto, provatelo Sì, un ottimo guanto, provatelo Sì, un ottimo guanto, provatelo Sì, un ottimo guanto, provatelo